io buono i napoletani sotto l'hotel dei milanisti ragazzi poi dopo vi dicono in caso di vittoria cioè che non hanno vinto perché non li avete fatti dormire eh io io ve lo dio loro sono fatti così milanisti sono fatti così e la partita veniamo dopo le le è vero che la gazzetta fa uscire un articolo su Lukaku che secondo me ormai è il segreto di Puccinella che l'Inter non lo terrà l'allenatore lo impiega male tutto quello che vuoi te siamo d'accordo su tutto ma quello che conta è il rendimento di un calciatore il rendimento del calciatore purtroppo è quello che è ad oggi ripeto per me Lukaku che è pagato profumatamente dall'Inter i giocatori prendono dieci bonifici lui prende ottocentocinquanta mila euro al mese non è pagato per chiedere scusa Romelu sei pagato per fare gol bisogna ragionare così anche con voi ragazzi i calciatori perché bisogna mettervi anche davanti a delle responsabilità non è vero che il tifoso non può fare nulla il tifoso può fare come ma dopo la perla della gazzetta di Moratti che addirittura la gazzetta ieri dice che c'era un premio per il quarto posto ci pensa Moratti a stroncare definitivamente questa specie di proprietà scandalosa per me è scandalosa ma ormai per tutti voi perché dice cosa dice Moratti i teristi si sono abituati alla migliorità purtroppo sono stato contestato gli chiedono perché hanno hanno testato più te che i cinese perché si sono abituati tutti alla migliorità e Moratti ti dice anche io in Zaghi lo avrei mandato via vedi quindi anche Moratti mette ancora più pepe alla vicenda di ieri quindi l'articolo su Lukaku non verrà discattato il premio per il quarto posto io però ti dico la verità da interista ho goduto alle parole di Moratti cioè da interista poi qualcuno magari dirà non era il momento ragazzi ma quando è il momento nel calcio non c'è mai il momento giusto cosa fai fornisci gli alibi ai giocatori eh Moratti doveva stare zitto la gazzetta la doveva scrivere di Lukaku ok possono essere cose studiate tutto quello che vuoi ma alla fine cioè questi sono dei super professionisti strapagati devono andare in campo e fare il proprio lavoro ma di cosa vogliamo ragionare ed è vero quello che dice Moratti perché in uno stadio dove è stato fischiato Eto' 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 dove è stato fischiato Vieri, Ronaldo, Ibrahimovic, Baggio contestazioni a Moratti il doppio rispetto a quelle che ha avuto questo cinese Pellegrini dove Pellegrini fu costretto a dire che vendeva perché i tifosi non lo volevano anche Pellegrini è stato contestato nessuno si spiega finalmente finalmente c'è un giornalista e a Moratti gli ha chiesto ma come mai sei stato un testato più di cinese era l'ora ora vi dovete fare coraggio anche se la storia tra i cinesi e l'Inter è finita voi giornalisti vi dovete fare coraggio visto che rompete i coglioni anche voi della Juve rompete i coglioni con Caciopoli che quello schifo di trasmissione ieri io sinceramente non ce l'ho fatta a guardare no? Che cosa volete far capire con quella trasmissione lì? Ci vorrete paragonare alla Juve ragazzi ma non scherziamo ora qualcuno qualche giornalista io spero faccio un appello nel mio piccolo dovete andare da Marotta a chiedergli ascolta Ricciolone come è possibile che un presidente nulla tenente possa fare il presidente dell'Inter nonostante tutto faccia una vita da nababbo con auto da un milione di euro ristorante locali e quant'altro questo gli dovete chiedere ma perché gli altri presidenti di Serie A non rompono i coglioni e perché trattano tutti bene Zanghi perché a tutti i presidenti di Serie A soprattutto a chi Napoli Milan Juve gli va benissimo presidente come Zanghi per l'Inter capito perché? di sono i giornali televisioni di sono i giornali delle televisioni in Italia sono di eh Milan e di Juve giornali Repubblica e chi più ne ha più ne metta Bono Sciglio e Berlusconi no? Chi va benissimo presidente come Zanghi ecco perché ti scrivono mercato da scudetto un miliardo e mezzo di debiti scrivono mercato da scudetto una società che ha un miliardo e mezzo di debiti che non fa mercato da tre anni che va a rovistare nella spazzatura i parametri a zero hai capito il coraggio che hanno? ora però andategli a chiedere a Marotta come fa questo qui ad essere il presidente come volevano andare avanti con i parametri a zero con mercati a zero questo gli dovete chiedere come fa questo qui a fare il presidente dell'Inter da nulla tenente perché non si è mai visto nella storia del calcio e come fa ad oggi ad essere ancora il presidente questo gli dovete chiedere non mi stacco di dirlo ragazzi non me frega una sega stasera c'è una gran bella partita dispiace perché si incontrano due italiane però una ne uscirà uno sola una sola e secondo me grazie al Maradona 90 minuti sono tosti io ve lo dico a parte il casino gli hanno fatto sotto l'hotel io quelle sono cose secondo me che però si potrebbero ritorcere contro io parlo al tifoso napoletano manca Kim manca Anguissa ma c'è Don Belè che secondo me è un grande giocatore se non al pari di Anguissa quasi Don Belè secondo me è molto forte semmai ripiazzi un po' peggio dietro eh Kim perché Kim è veramente eh è veramente forte giocherà one one Jesus dicono comunque Napoli nel complesso rimane una squadra che gioca a memoria che sa giocare in tante maniere ti lascia la palla gestisce la palla gioca sulle fasce va uno contro uno gioca di rimessa il Napoli è periodoso a maggior ragione in uno stadio dove sarà non infuocato di più te lo ripeto io ti dirò il risultato di stasera cosa preferisci per me comunque vada sarà un successo perché se vince il Napoli buttano fuori il Milan e godo la interista se passa il Milan e viene in semifinale con noi perché per noi io per me siamo in semifinale non sono scaramatico godo lo stesso perché io me la ricordo ancora quella semifinale dove siamo andati fuori non in Parigi quindi io voglio semifinale inter Milan quindi però se il Napoli riesce a strapazzare in Milan che ha solo quel modo di giocare poi alla fine del Milan perché il Milan ti lascia palla e poi dopo esplode in avanti o Leao con Teo Fernandez il problema qual è che se quelle ha o soprattutto e anche Teo Fernandez se gli lasci un po' di spazio quelle ti spaccano spaccano le partite quei due sono tremendi quindi poi sai cosa Milan corre cioè hanno forza nelle gambe quindi sarà una bella partita secondo me livello di gioco non c'è paragone Napoli se parliamo della qualità di gioco è Napoli di un'altra categoria però comunque Milan sai la tradizione europea comunque è una squadra in forma c'hanno tutti i titolari a Napoli gli mancano ti ripeto più che Anguissa dove secondo me Don Belè fa una grande partita è dietro che c'è Wong Jesus al posto di Kim è quello che secondo me può essere negativo per il Napoli però ragazzi c'è lo stadio tutto pieno tifosi napoletani poi ragazzi cioè sono spettacolari nel tifo quindi anche loro saranno saranno davvero il dodicesimo uomo in campo e la godrò sul divano ripeto io ringrazio Moratti perché finalmente gli hanno fatto una domanda gli hanno fatto una delle domande che dovrebbero fare se è stato ritirato più di cinese Moratti ha portato un triplete portava i giocatori da ottanta a novanta milioni a questo non chiedevano nulla cioè non gli fanno nemmeno le domande ai cinese dove volevi andare con i cinese dove dove ci mettiamo più tardi ragazzi ciao